Quindi qualcosina l'abbiamo spostato, qualcosina l'abbiamo spezzettato e quindi ringrazio tutti per la flessibilità. Ma dicevo, sempre dietro le quinte, lati positivi, affidarsi a un professionista per esplorare, per scoprire queste zone, vuol dire anche affidarsi a una persona che gli imprevisti li mette in conto. Ok, tre giorni di trekking nel Monte Olimpo, non vuol dire partire dall'Italia il giorno 1 e rientrare in Italia il giorno 3. Quindi alla fine riusciamo a far tutto, ringrazio per la pazienza e il lato positivo di tutto questo è che appunto affidarsi a un professionista per organizzare queste cose, vuol dire anche non dover spostare dei voli, non dover spostare delle ferie all'ultimo minuto, organizzare tutto con quanto agio ci basta per riuscire ad arrivare qua con il volo che abbiamo programmato e riuscire a tornare in Italia esattamente con lo stesso volo che avevamo prenotato settimane fa. E soprattutto riuscire a rientrare al lavoro in perfetto orario, ecco, con anche un giorno di relax a casa per potersi ripigliare un attimo, svuotare gli zaini, le valigie. Ecco, diciamo che il lato positivo è questo, tenere sempre un po' di agio. Certo, per fare tre giorni di trekking vi chiedo una settimana del vostro tempo, non è stata una settimana sprecata perché oltre ai trekking dove il meteo ce l'ha concesso, siamo andati a vedere dei siti archeologici, siamo andati a vedere il mare, abbiamo discusso della storia di questi posti, ne abbiamo approfittato dei molti musei che ci sono nel territorio, quindi, certo, per tre giorni di trekking vi chiedo una settimana del vostro tempo, però vedete che poi in questa settimana riusciamo a fare tutti e tre i trekking che avevamo in programma e in più siamo riusciti a inserire anche qualche fuori programma a livello storico, archeologico, ambientale. Quindi ecco, il lato positivo è questo, abbiamo dovuto modificare un attimino i nostri piani, ma alla fine siamo riusciti a far tutto e anche di più.